Buongiorno e benvenuti a questa sedia stampa di oggi 28 febbraio. Oggi è mercoledì e vi dico subito che ci avremo questa sera Matrix, prime serate, perché avremo l'intervista, abbiamo già fatto Renzi lunedì, oggi ci sarà l'intervista questa sera alle 9.30 circa di Luigi Di Maio, candidato a presenza della Consiglio del Movimento 5 Stelle, e poi di Matteo Salvini, quindi questa sera Di Maio, Salvini, Canale 5, non prendete impegni, state belli lucidi perché questa sera, in prima serata, due dei leader che secondo me hanno più cose da dire in questo momento. A proposito invece di politica, oggi il dato fondamentale su tutti quanti i giornali è la squadra del Movimento 5 Stelle. Devo dire che c'è da parte dei giornalisti, penso ai pezzi di Franco, ma anche di altri giornali, c'è quest'area un po', come posso dire, un po' schifata, un po' snobbistica, un po' elitaria, per la quale ma che fanno questi quattro ragazzini che presentano i loro ministri? Ma è una cosa irrituale, non è previsto l'articolo 92 della Costituzione, il Quirinale non li ha ricevuti, è stato il suo segretario generale addirittura a ricevere il Di Maio? Io non ci trovo nulla di male, chiaro? Nulla di male in quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, anzi, posso dire le cose come stanno in maniera molto semplice, sapete bene che io non sono un fan del Movimento 5 Stelle, ma in realtà il Movimento 5 Stelle è in grado di presentare i ministri proprio perché gli altri partiti non sono in grado di presentare i loro. Cioè, voi pensate che il centrodestra che non riesce neanche a fare una manifestazione unitaria sia in grado di presentare dei ministri? Voi pensate che Renzi sia in grado di presentare dei ministri a parte di quelli del governo Gentiloni posto che non saprà quanto farà il suo partito? Io penso che sia molto difficile capire da parte degli altri partiti quali siano i ministri. Quindi, siccome il Movimento 5 Stelle va da solo ed è, come possiamo dire, non è una coalizione, ha presentato i suoi ministri. di 17 nomi che sono stati inviati al Quirinale. L'altra grande cosa divertentissima dell'ipocrisia dei nostri giornali, sapete qual è? È che dicono il Quirinale neanche aprirà quella mail. Ma ragazzi, ma siete veramente dei dinosauri? Cioè, il Quirinale neanche apre la mail con i 17 ministri proposti da Di Maio? Farebbe male non aprire quella mail. Doveva aprirla quella mail, non c'è un virus in quella mail. C'è la proposta di ministri fatta da un partito che dovrebbe prendere tra il 25 e il 30%, mettetela voi. No, non è una cosa scandalosa. Allora, vi è chiaro come la penso su questa vicenda? Questa è la procedura. Poi andiamo nella pratica. Nella pratica io vado a vedere quali sono questi ministri. e a quel punto mi metto la mano in poccia. È il peggio del peggio che ci si possa immaginare. Sicuramente onesti, sicuramente fuori dai giochi. Hanno preso un professore di Pretoria, cioè un paese in cui il reddito dei lavoratori di 300 dollari al mese, che si dovrebbe occupare dello sviluppo economico e che la sua teoria fondamentale, oltre al fatto che non esiste il PIL, nel senso che non è importante come indicatore, può anche darsi. Anche Kennedy diceva che questo non è impossibile, importante. Però alla fine il PIL è almeno un piccolo ancoraggio numerico per capire come vanno le cose. Ma insomma, questo signore di Pretoria è uno di quelli che sta facendo le campagne di boicottaggio di Israele più disgustose che ci siano. Quindi ti metti dentro un bel, no, come possiamo dire, un bel pasdaran anti-israeliano. Vabbè, ma chi se ne frega, no? Perché là dentro c'è tutto. Non che poi la sinistra sia a filo israeliana convinta. Ma vado avanti. Oggi ho letto un'intervista del ministro del lavoro Tridico, o Tridico, mi scuso con lui, non lo pronuncio bene, probabilmente dovremmo imparare a pronunciarli bene i nomi e gli accenti di questi signori. Beh, Mario Farina dice appoggia il mafioso venduto, sì, io appoggio il mafioso, mafioso Berlusconi. Se fosse mafioso starebbe in galera, non è in galera per mafia. Ma comunque ha fatto tante più leggi contro la mafia, da 41 bis, prorogato... Insomma, lasciamo perdere, lasciamo perdere questa cosa perché non mi interessa difendere Berlusconi in questo caso. Mi interessa parlare del programma economico del ministro del lavoro del Movimento 5 Stelle che si chiama Tridico, dice che intanto non bisogna abbassare troppo il costo del lavoro. Dice che non bisogna abbassare troppo il costo del lavoro per 30 anni. Abbiamo detto che se un'azienda paga tre... Ministro, ministro, funziona così. Io ricevo 1.500 euro in busta paga e alla mia azienda costo 3.000. Ci arrivi? Ci arrivi? Perché se togli tutti i ragionamenti dei vostri impalcature di comunisti mascherati... Comunisti, penso marxisti, perché oggi neanche i comunisti dicono... Che se a un'azienda una persona costa 3.000 e alla persona entrano nette 1.500... Non ci sarà molto incentivo ad assumere. Non saremo un paese, come posso dire, che aprirà le porte alle assunzioni. Sapete cos'altro ci dice il ministro del lavoro in pectore? E' allucinante. Un'intervista alla stampa di oggi. Ci vuole nel lavoro, ci vuole meno flessibilità. Perché si dimostra che nei paesi in cui c'è meno flessibilità sul lavoro c'è più produttività. Più produttività. Allora, io... Non so come dire. Mi viene da dire che questo sono... Sembra sentire parlare i collettivi che non ci sono più universitari. Cioè, se noi dobbiamo prendere questo tridico per fare il ministro del lavoro quasi mi viene da rimpiangere il comunista Poletti. Comunista, perché era tecnicamente comunista nella via delle cooperative Poletti. Chiaro? Questo mi viene da dire. Quindi io quello che dico è bene ha fatto il Movimento 5 Stelle a presentare i ministri. Assurdo l'atteggiamento di dire oh, non possiamo presentare i ministri. Leggiamo quello che dicono i ministri e ci troviamo questi ministri che secondo me sono assolutamente ridicoli. Certo, è vero. Quando voi mi dite come sono i ministri degli altri io devo soltanto alzare le mani boh, boh e chi lo sa chi sono gli altri chi verrà con gli altri basta questo insomma, avete capito come la penso i treni, i treni altra grande questione colpa della raggi Roma sì, Roma forse non è abituata alla neve ma è del tutto evidente che qua il casino non deriva dal sindaco di Roma chiaro? Deriva dalla gestione folle della RFI che è rete ferroviaria italiana e delle ferrovie dello Stato e anche in una certa misura di NTV che è l'altro ma forse minor misura perché in realtà l'unico treno che si è guastato sulla linea Orte è quello di Italo però il problema non è il treno di Italo è RFI cioè la rete ferroviaria italiana che doveva dire cari Italo e ferrovie dello Stato domani siccome ci sono delle navigate ingenti e siccome non abbiamo messo gli scaldini su tutta la rete ferroviaria nel centro-sud minori treni perché è meglio un treno in meno che un treno che ci impiega 28 ore ci vuole il ministro del 5 Stelle per capire questa cosa? secondo me la capisce anche il ministro del 5 Stelle Tridico il nuovo ministro del lavoro ma non lo capisce il presidente e l'amministratore delegato sia di RFI sia di Trenitalia nominati dal governo Renzi entrambi due pippe possiamo dirlo che sono due pippe? oggi hanno fatto bene a chiedere scusa e vi ringrazio ma quando c'è un'azienda così importante e quando ci sono dei manager così importanti chi sbaglia un po' deve pagare in un mondo normale in un mondo normale deve pagare perché quello che è successo ieri come loro stessi oggi ci hanno detto è un errore di loro personale quando loro mi dicono che il problema è che a Roma ci sono 150 scaldini si chiamano scaldiglie cioè sono quelle robe sapete cosa sono le scaldiglie? sono un filo elettrico con una resistenza come uno scaldabagno che rende caldi i scambi ferroviari e quindi scioglie ghiaccio e neve bene a Roma ne servivano 300 ce ne sono 150 eh ma non faceva tanto neve a Roma e non c'è molto ghiaccio a Roma non me ne fotte nulla è del tutto evidente dopo quello che è successo ieri che hanno giudicato male il fare o non fare un investimento ci hanno fatto due palle così sul fatto che le ferrovie dello Stato investiranno 10,8 miliardi di euro e non hanno investito 100 nelle scaldiglie e su cosa le investono queste robe qua? su cosa le investono? bene hanno sbagliato a decidere gli investimenti quindi se avete sbagliato siete delle pippe non vi paghiamo per questo io voglio un manager che sappia fare il suo mestiere non che mi chieda scusa quando ha sbagliato è già qualcosa a chiedere scusa ma non basta beh invece il più ridicolo di tutti in tutta questa enorme vicenda si chiama De Magistris il sindaco di Napoli che in realtà come sempre fa il sindaco di Napoli sapete che cosa fa? dice cade la neve la città fa schifo c'è un disastro eccetera e la colpa è sempre di qualcun altro mai i centri sociali che ha portato il governo la neve è colpa della protezione civile che non gli ha dato l'allarme in tempo meteo.it no? meteo.it De Magistris meteo.it vedere quello che era successo in Roma il giorno prima no? invece di stare lì a fare la tralla all'acqua con i centri sociali e pensare al complotto mondiale bastava vedere quello De Magistris chiaro? non è che ci vuole molto ma io dico siccome i napoletani l'hanno rivotato per la seconda volta cari amici napoletani che mi ascoltate lo vedo che spesso ci sono anche persone da Napoli che mi ascoltano io non so che cosa dirvi parlo dei napoletani che non l'hanno votato perché quelli che l'hanno votato sanno che cos'era De Magistris sanno come la pensa De Magistris sanno dopo l'amministrazione di Magistris che tipo era? Quindi la mia zuppa è rivolta agli altri oggi leggete su tutti i giornali le scuse di De Magistris che non ci sono che sono soltanto colpa dell'altra amministrazione me lo chiede ora Rosa tutti quanti i giornali parlano della Raggi che vuole togliere dal 2024 il diesel da Roma e l'obiezione unica, seria, straordinaria fatta oggi è quella del foglio ma scusami, ma se vuoi togliere dal 2024 il diesel perché su 2000 autobus di Roma ce ne sono 1500 a gasolio? Beh, potrebbe dire perché quelli erano quelli che ho ereditato benissimo sindaco De Magistris e sindaco scusatemi Raggi ma allora perché su 2000 autobus 1500 sono a gasolio e i nuovi 150 che hai comprato i 150, scrive il foglio di oggi i nuovi 150 autobus che a Roma sono stati comprati sono a gasolio? cioè vai in Messico a un inutile un inutile convention che si chiama Climate for Women cioè cambiamenti climatici solo dedicato alle donne voi pensate un po' l'ho già detto ieri guardatevelo vi voglio far vedere sul mio sito vedrete il mio fondo di ieri su questo a Radio 105 mi sembra normale che ci sia un incontro sul clima dedicato alle donne e solo alle donne ma che cazzo di mondo siamo? se possiamo pensare che dobbiamo fare un convention che è già la grande fuffa dei cambiamenti climatici e per di più dedicato solo alle donne e quindi lei si è preso come si è vista oggi la foto il suo trolley blu e col suo trolley blu ma con dentro c'era ovviamente il piumino è andata a città del Messico ha fatto lo scalo ad Atlanta quindi forse non è partita con all'Italia sarà Delta non so chi è che fa lo scalo ad Atlanta è quello che mi rende nero su questa vicenda non è tanto che la Raggi possa andare a un convegno internazionale ma io quell'ipotesi dei grandi amministratori del Movimento 5 Stelle che sfottevano Marino Sottomarino perché era sempre all'estero che gli accusavano gli scontrini io dico con i nostri soldi andare ad Atlanta e poi a città del Messico lasciate perdere mentre nevicava a Roma per seguire una conferenza sul clima dedicato alle donne è spreco di risorse pubbliche è un furto dei miei soldi io lavoro guadagno pago il 50% a Roma più che nel resto dell'Italia per l'Irap per il disastro dell'Irap il sindaco non se ne va ma non questo anche prima e anche quelli dopo il sindaco venisse pagato di più ma non andasse a buttare soldi nel cesso a città del Messico per l'inutile più inutile convegno che c'è sulla faccia della terra ce l'ho con la raggi cari amici miei grillini dello stracavolo no tutti i sindaci sono infelici rendono infelici noi a modo loro tutti uguali ma su questo mi viene da ridere tra l'altro Jacopo Giliberto oggi sul sole 24 ore in una fantastica rosica rosica Gianluca mi dice rosico siete fantastici io adoro i troll grillini io non rosico ma avete un neurone oltre al chip che vi hanno messo gli altri nell'aver sentito tutta questa zuppa di porro avete sentito che cosa ho detto l'avete capito eh amici grillini l'avete sentito questo qua accanto al chip no accanto alle sirene che esistono accanto alle scie chimiche i novax ecco qua dentro qua dentro cercate di fare un ragionamento e sentire quello che dico Jacopo Giliberto straordinario oggi sulla sole 24 ore in cui ci spiega per quale motivo questa balla del diesel inquinante balla fake news del diesel inquinante a grande seguito vi segnala tra l'altro che il vero problema delle polveri che ci saranno nel futuro posto che le polveri vengono create anche dalle biciclette biciclette sono gli pneumatici e i freni che si consumano pneumatici e freni che si consumano anche in auto elettriche e anche magari spinte col sospiro del movimento 5 stelle e di Forza Italia e di Renzi tutti che soffiano per far andare avanti le auto in questo mondo stupendo fatta solo da Trudeau da Laggi e da non so Nicola Porro in questo straordinario mondo tutti che soffiano per far andare le auto purtroppo ci sono i freni e ci sono le pasticche dei freni e purtroppo si consumano anche gli pneumatici e allora si creano le polveri sottili chiaro? chiaro? no non è chiaro il diesel ce l'abbiamo contro il diesel fantastica l'idea di uccidere il diesel ce ne accorgeremo cosa vorrà dire quella che è l'alternativa al diesel comunque io sono felicissimo il mio reddito mi permetterà di comprarmi una macchina elettrica una Tesla e quelli che invece lavoravano con una panda di 10 anni fa con un piccolo Zafira diesel di 15 anni fa eheh no? nel mondo della sinistra illuminata chi dovrà morire sono quelli che non potranno cambiarsi la macchina fantastico fantastico un mondo di Tesla Boc Coté favoloso intellettuale del Quebec che prende in giro Trudeau è una di quelle cose che si dovrebbe sentire e leggere oggi ce le ricorda il foglio a pagina 2 purtroppo il suo libro non è tradotto in Italia ma è quello che definisce Buffone il presidente del Canada e ne ricorda tutte le sue variopinte manifestazioni come quella di andare in giro vestito da indiano alla Hollywood Party e non essere neanche ricevuto per i primi due giorni del suo viaggio in India perché oltre a vestirsi di indiano si era sbagliato e aveva invitato un terrorista Sikh alla cena di gala in cui aveva invitato tutte le autorità indiane questa è la rassegna di oggi vi do appuntamento sul foglio Boc Coté vi do appuntamento a questa sera 9.30 e alle 19 105 Matrix ma alle 9.30 Mediaset Canale 5 Matrix in prima serata con Di Maio gli chiederò dei ministri e Salvini in diretta ciao condividete se vi piace